Comincia una bellissima iniziativa per garantire un'estate al mare ai bambini, ai ragazzi e giovani, alle famiglie delle vele. Grazie al supporto della Fondazione Grimaldi, 400 tra piccoli e grandi potranno trascorrere questa estate al mare, essendo trasportati con gli autobus, trascorrendo una giornata in spiaggia, completamente assistiti e supportati. È un grande campo estivo che aiuterà a trascorrere delle giornate piacevoli, a dimenticare le tristezze, il dolore che purtroppo in questi ultimi giorni ha colpito questa comunità e ad aiutare soprattutto i bambini ad avere dei momenti di serenità. Per questo motivo sono il comune molto grato alla Fondazione Grimaldi per questo impegno che ci consente di donare momenti di serenità a chi ha bisogno in questo momento di avere una mano tesa. La Fondazione Grimaldi è sempre molto vicina ai marittimi in genere e alla città di Napoli, che è la nostra città e quindi ogni volta che ci sono dei disagi o ci sono dei problemi e noi siamo molto felici di poter dare un contributo. Nell'occasione specifica siamo molto felici di aver avuto questa opportunità che ci dà il comune di Napoli e di poter stare vicino a questi ragazzi che in questo momento hanno anche problemi, incertezze, disagio e cose e quindi poter fargli trascorrere una bella estate con meno pensieri. Siamo molto molto felici di questo.